Buonasera, sono il domandante. Due paroline sull'andamento della navigazione. I paracadotisti in calzamagna stanno giocando la loro obiettibilità contro le parrufie del Settecento, ma il primo pilota è Mosachiano e non lo scontro a nessuno. Si avvisa in un'altra, la gente che è quella, che la cassa numero 8 è chiusa per inventario, la cassa numero 6 è chiusa per tutto, tutte le altre casse sono aperte, ma non le comunicante. Alla cassa numero 12 ci datano la mano, ma che non ci prestano nomi? I don't have anywhere Since I don't have you Grazie a tutti 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 Grazie a tutti